Questo appuntamento è offerto da 1990 pulizie e sanificazioni. Siamo specializzati in pulizie ordinarie e straordinarie con macchinari specifici e prodotti certificati. Ci occupiamo di pulizie post cantiere, di abitazioni private, uffici, condomini, pulizie industriale e sanificazioni ambientali. La sede è a Savigliano e operiamo in tutto il Piemonte. Mettiamo al vostro servizio la nostra esperienza, serietà e qualità. Contattaci per un preventivo gratuito al numero 0172 713526 Specialisti del riposo è nato nel 1999 e fin da subito si è caratterizzato per il suo diverso approccio ai sistemi del sonno. L'esposizione è uno spazio interattivo, un luogo in cui i clienti sono invitati a provare i prodotti e verificare la qualità. Una selezione di guanciali, materassi, letti, tessili, poltrone e biancheria a disposizione del cliente che può toccare con mano o provare qualsiasi prodotto prima di acquistarlo. Con oltre 500 metri quadrati siamo la più grande esposizione del Piemonte ed una delle più grandi d'Italia. Collaboriamo con importanti aziende che producono in esclusiva per noi in base alle nostre indicazioni. Specialisti del riposo siamo a Sabigliano, India Cuneo 27. Per informazioni telefona allo 0172 72 6030 o vai al sito www.specialistidelriposo.net. Torna a Sabigliano, Quintessenza, che cosa dobbiamo aspettarci? Allora, speriamo una giornata veramente diversa dal solito. Questa mostra a mercato è diversa assolutamente da tutte le altre realtà di mercati che abbiamo visto in Sabigliano. È una giornata condensata dai profumi, dalle essenze e Sabigliano diventerà il cuore di questa manifestazione. In Piazza Santa Rosa ci sarà veramente il punto di riferimento principale, la piazzetta delle Erbe, dove lì si troveranno un po' di tutto. Nelle altre piazze ognuna sarà distribuita con un tema specifico sempre legato a quello che è l'iniziativa e la qualità di Quintessenza. Ci sarà anche la presenza di Coldiretti e di Campagna Amica che delizieranno con altri sapori i visitatori della nostra città. La collaborazione quest'anno è stata allargata, oltre già all'Università degli Studi, dove sul discorso delle essenze, loro sono poi i factotum, nel senso che hanno una scuola, hanno una facoltà riferita a quelle, ci hanno ospitati molto ben volentieri già fin dal primo momento e lì dentro all'Università organizzeremo dei laboratori specifici per bambini e per adulti, laboratori tematici, dove sarà presente Aulina che insegnerà e farà come nascono i saponi, le saponerie. Ci sarà Bordega 1888 che spiegherà dei cocktail e di tutte queste cose. E abbiamo il collegamento con il Muses che ormai abbiamo iniziato già a collaborare ultimamente, già con la Fiera delle Mecchializzazioni Agricolo. Quale sarà il ruolo del Muses nell'ambito di Quintessenza? Sarà un ruolo molto attivo. Quest'anno abbiamo incontrato gli organizzatori e abbiamo cercato con loro di arricchire il progetto introducendo un po' una visione dell'essenza in modo particolare. L'essenza non tanto quanto fragranza, ma essenza come l'essere delle cose, il valore intrinseco delle cose. E quindi abbiamo giocato nell'individuare sette luoghi nella città, declinando per essi quello che per noi rappresenta l'essenza di quel luogo. E quindi nella Chiesa della Pietà abbiamo definito l'essenza della spiritualità. Al Teatro Milanollo ci sarà l'essenza dell'arte, all'Università l'essenza dell'innovazione e della sostenibilità e così via. In ognuno di questi luoghi quindi noi racconteremo dal nostro punto di vista che cosa per noi rappresenta l'essenza, non solo a livello affattivo ma a livello proprio di sensi. Quindi ci saranno delle attività in qualche modo di coinvolgimento del pubblico sempre declinate intorno a quella tematica. Al Muses in particolare, dove racconteremo dell'essenza, dell'eleganza e del lifestyle, che è il valore per Antorno Mase che rappresenta questo valore, questo luogo, avremo un romanzo introspettivo intitolato Il Giardino degli Aranci, dove oltre ovviamente al racconto del libro stesso ci sarà la possibilità da parte del pubblico di partecipare sensorialmente al racconto e mentre si parla di elementi olfattivi poter all'interno del Giardino dei Sensi sentire queste profumazioni legate al libro stesso. Questo appuntamento è stato offerto da Impresa di pulizie Pulisav di Congedi Vincenzo Dal 1990, pulizie e sanificazioni. Siamo specializzati in pulizie ordinarie e straordinarie, con macchinari specifici e prodotti certificati. Ci occupiamo di pulizie post-cantiere, di abitazioni private, uffici, condomini, pulizie industriale e sanificazioni ambientali. La sede è a Savigliano e operiamo in tutto il Piemonte. Mettiamo al vostro servizio la nostra esperienza, serietà e qualità. Contattaci per un preventivo gratuito al numero 0172 71 3526. Specialisti del riposo è nato nel 1999 e fin da subito si è caratterizzato per il suo diverso approccio ai sistemi del sonno. L'esposizione è uno spazio interattivo, un luogo in cui i clienti sono invitati a provare i prodotti e verificare la qualità. Una selezione di guanciali, materassi, letti, tessili, poltrone e biancheria a disposizione del cliente, che può toccare con mano o provare qualsiasi prodotto prima di acquistarlo. Con oltre 500 metri quadrati siamo la più grande esposizione del Piemonte ed una delle più grandi d'Italia. Collaboriamo con importanti aziende che producono in esclusiva per noi in base alle nostre indicazioni. Specialisti del riposo siamo a Sabigliano, India Cuneo 27. Per informazioni telefona allo 0172 72 6030 o vai al sito www.specialistidelriposo.net